Tornano in carcere quattro dell'operazione Cassandra all'alba arresti per Biagio Pastore, 56enne, Giuseppe Friscira, 49enne, Vincenzo Valleri, 47enne e Mario Cosimo Sattese, di 66 anni, tutti di San Giorgio Ionico. Per loro si sono nuovamente spalancate le porte del carcere di Taranto dove termineranno di scontare la loro pena. I quattro sono stati ammanettati dai carabinieri della compagnia di Martina Franca. Al termine dei tre gradi di giudizio la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai loro legali a seguito del giudizio d'appello decretandone di fatto il ritorno in carcere. I quattro arresti sono solo un altro capitolo dell'operazione denominata Cassandra che, divisa in due tronconi nel 2006, portò all'arresto di 23 persone, due delle quali in carcere e 22 domiciliari e nel 2007 portò all'arresto di 19 persone, quattro delle quali in carcere e 15 domiciliari. Oggi, a distanza di oltre sei anni e al termine di tre gradi di giudizio, il castello accusatorio nato dall'indagine condotta dai militari della stazione di San Giorgio Ionico ha dato ulteriore dimostrazione di essere stato edificato su fondamenta giuridica e molto forti. L'indagine ebbe il suo epicentro nel comune di San Giorgio Ionico. Gli arrestati furono ritenuti irresponsabili dei reati continuati ed in concorso tra loro di violenza sessuale, circonvenzione ed incapace, sfruttamento della prostituzione e minaccia perpetrata nei confronti di persone in condizioni di inferiorità psichica. Le ordinanze furono emesse dal GIP del Tribunale di Taranto, la dottoressa Patrizia Todisco, su richiesta dell'allora sostituto procuratore presso lo stesso tribunale, Vincenzo Petrocelli.